Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. C'è luce nel futuro degli operai della Betafense di Tortoreto. Dal tavolo istituzionale con la proprietà dell'azienda metallurgica, maestranze e sindacati hanno strappato il contratto di solidarietà per un anno con l'impegno dell'azienda ad integrare economicamente ad ogni lavoratore la perdita salariale dovuta all'attuazione dello stesso contratto di solidarietà. L'accordo tra rappresentanti sindacali e Betafense è neno su bianco, a chiusura del tavolo istituzionale della vertenza promosso dall'assessore regionale alle politiche del lavoro Pietro Quaresimale. La proposta è piaciuta ai sindacati, che si sono detti soddisfatti soprattutto per l'integrazione salariale. Si chiude dunque con un accordo su tutti i fronti la prima parte della vertenza Betafense grazie soprattutto al lavoro che tutte le parti hanno fatto sul tavolo istituzionale. Proprio così ha commentato l'assessore Quaresimale. Tutte le parti, dall'azienda ai sindacati, hanno mostrato responsabilità e senso pratico. Ho preso in carico questa vertenza partecipando al tavolo ministeriale, nel quale di fatto venne certificato l'abbandono della Betafense dall'Italia, il licenziamento per 146 lavoratori. Abbiamo avuto il coraggio di aprire un tavolo regionale per non lasciare nulla di intentato e avviare un paziente lavoro di ricostruzione dei rapporti, mettendo sul campo tutte le possibilità. Il risultato di oggi la conferma che solo lavorando sinergicamente prosegue Quaresimale si riescono ad ottenere risultati e risolvere magari vertenze che sembravano disperate. L'importante è che dopo tutti questi mesi siamo riusciti a dare risposte e a stare vicino ai lavoratori. Il pensiero corre alle tante vertenze che abbiamo in piedi, conclude Quaresimale, che vedono la partecipazione attiva della regione. La protesta, che ha portato a diversi scioperi e stati di agitazione sindacale, tanto a Tortoreto quanto a Roma facendo approdare il caso direttamente al Ministero del Lavoro, era iniziata diversi mesi fa, quando la Betafense annunciò taglio occupazionale e quindi un futuro incerto del sito tortoretano. Al momento di ciò resta solo una pagina scritta, mentre gli operai possono godere di una buona boccata di ossigeno.